è il giorno del suo centesimo compleanno i migliori auguri dell'amministrazione comunale il giovane cammina più veloce dell'anziano ma l'anziano conosce la strada però il gira è la terza anche noi perché vuol dire che si può arrivare a cento anni vuol dire che si può arrivare a cento anni è proprio un bambino i centri jheimati glen glen glen